Ciao a tutti, dimostrali che ne vale la pena, insegnali cosa significa il potere del tuo silenzio. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tremasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione in seminario dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, dimostrali che ne vale la pena, insegnali cosa significa il potere del tuo silenzio. Allora, se tu vuoi far sì che lui percepisca che ne valga la pena ad avere una relazione con te, devi utilizzare delle strategie. La strategia del silenzio è una strategia ad esempio. Cosa significa usare la strategia del silenzio? Beh, significa che, diciamo, andare ad agire, a colpire direttamente sull'inconscio dell'altra persona. L'inconscio, infatti, si muove e si nutre di cibo emotivo, di stimoli emotivi, e non riconosce, diciamo, la differenza tra un'emozione positiva e una negativa. Misura solamente la quantità e l'intensità delle emozioni. Quindi va alla ricerca di emozioni che sono già state vissute dalla persona. Noi siamo abituati al pensiero logico-razionale, per cui pensiamo che dando presenza, dando disponibilità a una persona riusciamo a ottenere successo. Invece questo non accade. Ed è difficile talvolta accettare logicamente che un fallimento, una vittoria, possono essere esattamente la stessa cosa per la sfera emotiva. Mentre per la sfera logica, ovviamente, c'è differenza. Quindi, se tu continui a gratificare, logicamente, una persona, generandogli, di fatto, una calma sensoriale, un'assenza di stimoli, beh, la persona non sarà coinvolta. Cioè, se tu la cercherai, se tu manifesterai, diciamo, interesse, otterrai da parte sua disinteresse. E talvolta, diciamo, si può arrivare anche a situazioni paradossali. Basta pensare alla sindrome di Stoccolma, ad esempio, quando una vittima si innamora, di fatto, del carnefice. Razionalmente parlando, diciamo, non ci sarebbe nessun motivo di innamorarsi, tra virgolette, di un carnefice. Eppure ci sono tante persone che restano vincolate in situazioni che non gli piacciono, proprio in situazioni con persone che si dimostrano poco attente nei loro confronti, che danno disinteresse. E quindi noi dobbiamo capire, diciamo, che se vogliamo ottenere qualcosa da una persona che non si comporta in modo, come dire, complementare le nostre esigenze, dobbiamo imparare a togliere, dobbiamo imparare a togliere delle... anziché dare, diciamo. Prima è importante dare, ma poi è importante togliere. Quindi il silenzio, il dare indifferenza, è una delle forme di seduzione più importanti. E nell'area sentimentale affettiva succede veramente spesso che una persona, diciamo, possa coinvolgersi e innamorarsi non tanto quando riceve delle gratificazioni, ma quando riceve delle penalizzazioni. E allora alcune persone trattate col silenzio tendono veramente ad invaghirsi, tendono veramente a coinvolgersi e vivono una tensione. Questa tensione, diciamo, diventa proprio il... come dire, il nutrimento emotivo. Ecco, quindi questo è quello che bisogna imparare a fare. Ovviamente per fare questo non dobbiamo restare vittime noi stesse del, diciamo, delle emozioni negative che altre persone ci somministrano. Dobbiamo uscire fuori da un atteggiamento, ad esempio, vittimistico. Dobbiamo acquisire la forza, diciamo, delle nostre possibilità e dobbiamo renderci conto che ovviamente nessuno di noi sceglie di stare male. Non è la nostra parte logica a voler stare male, però può essere una parte emotiva che non ha cibo emozionale. Quindi la prima cosa che devi imparare a fare è darti del cibo emozionale, darti delle emozioni per non essere emotivamente, come dire, per non essere emotivamente sottodose. Ecco, se tu impari a darti delle emozioni, impari a vivere della creatività, impari anche ad auto-penalizzarti, ad auto-somministrarti delle emozioni, dei turbamenti, inizierai a creare questa nuova ed eterna alleanza tra la tua sfera logica e la sfera emotiva. E quindi potrai avere la padronanza nel poter somministrare ad altri atti tensionali e subliminali, come ad esempio il rifiuto, come ad esempio il silenzio, come ad esempio l'abbandono. E questo genererà coinvolgimento. Ovviamente questo va messo in atto ogni qual volta quella persona, diciamo, non si mette a complementare le tue esigenze, ogni qual volta quella persona non fa quello che tu vorresti facesse. Ecco, questo è fondamentale. Bisogna imparare a produrre emotività, bisogna imparare a produrre emozioni e questa è la cosa fondamentale se vuoi coinvolgere, se vuoi se vuoi far sì che una persona possa nutrirti di pathos, perché è proprio il pathos, cioè il patimento, tra virgolette, a coinvolgere. Quindi chi non sa produrre pathos, chi non sa produrre emotività, non riuscirà mai a sedurre, a coinvolgere qualcuno. Quindi è molto importante imparare a fare questo se vuoi coinvolgere se vuoi coinvolgere le persone. Le persone si coinvolgono sul desiderio, si agganciano normalmente su tutto ciò che non è disponibile, che deve essere conquistato. Un uomo si aggancia su ciò che deve essere conquistato. Addirittura diciamo provando un disagio logico-razionale, quindi anche una tendenza alla sofferenza, perché in questo modo si riesce a sognare, si riesce a desiderare, e quindi a dare nutrimento alla sfera emotiva. Provi in questo modo e vedrai che le persone, che l'uomo che ti interessa capirà che tu ne vale la pena, perché gli avrai insegnato cosa significa il potere del tuo silenzio. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamenti live per partecipare alle live, abbonamento base per partecipare alle lezioni mirate, abbonamento top per partecipare alle lezioni mirate e a videoregistrazione e seminario del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.